Konnichiwa e benvenuti a voi qui nel mio canale, sono come sempre Giappogamer, benvenuti qui sul mio canale Benvenuti qui sul nuovo episodio, Wonder Boy Red Ons Remix, questo platform incredibile datato 1986 e piombato qui su Playstation 4 in questa versione se vogliamo rimasterizzata Insomma con una nuova grafica e addirittura si possono utilizzare ben due personaggi, Tanya o TomTom Io ovviamente prendo TomTom che deve trovare la sua bella, allora eccoci qua, siamo arrivati al quarto stage e andiamo subito a vedere in che cosa consiste Eccolo qua, bene così Allora brutti serpenti, becca di questo Vai subito con l'angiolino, vai così Vai così E poi a un certo punto ci smolla Ok, ci porta direttamente alla seconda sezione Ok, bene così Ok Brutte api, prendete questo qua Così Ok, dagli TomTom E poi che caspi ci sta all'alveare, porca miseria Ma dove sta la pereggina? Che voglia accoppare prima lei Eeeh, sì Ok, bene così E arriviamo subito alla parte 3 Bene Ah, ci sono pure i totem No, cazzarola però Ok, come non detto Siamo giunti alla parte 3 Bene E zompa Ok E zompa, cavolo Ecco, le rocce Ok, bene così E sì, due E' un'accoppiata Porca miseria Eeeh, sì Vai così Brutti serpenti Siamo alla quarta parte La quarta sezione Eeeh, porca la miseria Ok Prendiamo la bambolina bene così Vai, fate fuori pure le rane Ok, questa rimane Mamma mia, per poco Sì In gol Bene così E la prima parte del quarto stage Se ne va In un minuto e 51 62.507 Punti Bene così Proseguiamo Ok, eccoci nella Seconda parte Di questo quarto stage Mamma mia Ok, taglia di banana Piano Ok, vai di fila d'ascia Bene Aio Maledette api Bene Ancora Sa roccia Ancora più veloce Fatta fuori Ok, rana Maledetta Bene così Ok, fatta fuori Fatto fuori anche il serpente Bene così Dai di banana La carota Che fa sempre bene Insieme alla parte 2 Ok, bene E fin qua No, cazzarola Appena detto Fin qua Bene E invece E invece no Dagli, dagli Tom Tom Qua non si molla Niente Ok Ok Non ti impiantare Ok Mamma mia Che culo Abbiamo preso la bambola La litagna Bene Beccati questa Rana Dagli dei skateboard Vai Velocizziamoci un po' Ok E siamo nella parte 3 Nella zona 3 Ok Sento la roccia Qua che parte Dagli dei latte No Cazzarola Vai Parte 3 Ok Dagli dei latte Bene così Dagli dei banane Le banane Fanno bene C'hanno potassio Bene così Vai Beccati questo No Cazzarola Però Allora Andiamo un po' Ok Lá c'è la roccia Non fa fuori L'uovo Ma Strano Aio Ok Ok Bene così Prendiamo Ste banane Vai Facciamo fuori Quel teschio No Cavolo Allora Ricominciamo Nella zona 3 Vai così Vai Del latte Aio Cazzarola Ok Ok Fatto fuori Ok Dai dei pomodoro Pomodoro Ok Siamo nella Quarta zona Bene così Api maledette Sì Pure i pipistrelli Ok Qua la roccia Dagli dei garote Vai così Ok Fatti fuori Sì Arrivati Bene così Bene così Ok Anche la seconda zona Andate In 3 minuti 35 E allora Siamo nella terza zona Bene Eh carosero Che cadeva Frolluno Spacca Strano Vai Facciamo fuori I sti teschi Attenzione A sto ghiaccio Maledetto Che cade Carota Pomodoro Vabbè No Cazzarola Non l'ho vista Porca la miseria Allora Vediamo un po' Ok Andiamo a fare attenzione A sti ghiacci Queste Come caspia Si chiamano Stalattiti O stalagmiti Non lo so Stalattiti O stalattiti Mamma mia Beccati questo Dove sta? Ah eccola Ecco che non l'ho visto prima Ok Beccato Ecco E' da un altro Vai Fatti fuori Bene così Mamma mia Ok Ok Adesso qua ce ne sta uno Vai Gadi Ok Un altro Ok Un altro ancora Ok Ok Un po' che fai Ok Tocchiamo Toccao piano Ok vai con l'angioletto Mamma mia Mamma mia Quasi scivola di brutto No Cazzarola Allora Siamo nella Nella seconda Nella seconda parte In questo quarto stage Quindi siamo a metà avventura Prende Dopo aver ammazzato il boss fight Ovviamente Ok Ok Là c'è l'uovo Vai con l'angioletto No Cazzarola Com'è che cadiamo sempre Porca miseria Sempre al stesso punto poi Ok Allora Cadi su Ok Bene così Cadi ancora Ok No Cazzarola Ok Bene così Qua poi si scive Se non è tutto tanto ghiaccio Si scivola ancora di più Ok Bene Vai Ok 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 Vai così Con la fatina Ok Ok In qualche modo Ci ha portato Nella terza zona Qualche salatite qua No Ok 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 Mamma mia Bene così Ok Cadi Siamo nella quarta zona Bene Ok Prendi ste banane Vai di carota Ok Bene così Ok Dagli col pomodoro Ok Bene così Buona tutta sta frutta Ci stava proprio a puntino Bene Si Gol Si Gliatta Bene così In quattro minuti Bene 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 così Bene così Ottimo così Ottimo così Ok Siamo al quarto stage Cioè Siamo alla quarta parte del quarto stage Che pazzate ovviamente di boss fight Ok Qua ci sei tu Ape bastarda No Ok Peccata bene così Bastarda api Ok Grande nino Meraviglia Vediamo un po' qua che c'è Broccoletto Ok Hamburger Buono Ah qua ci sta lui Ok Bene così Ok Fatti fuori Fatti beccare brutta lumaca Vabbè Non te becco Vai così Ok Vati in gelata hamburger Bella accoppiata Bella accoppiata No Cazzarola Rane Bastarde Vai Riprendiamo dalla seconda Sezione Di questo quarto stage Ok Bene così Vai Così Fatte fuori Bene 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 Dai di banana carota Brutte rane Ok Bene Dai di pomodoro E poteva andare ancora meglio E vabbè Vai così Vai così Con la fatina Vai Corri Corri Fatina Ok Fatto fuori Fatte fuori pure le rane Bene così E stiamo Alla quarta sezione Del quarto stage Che Sa di Boss fight Ovviamente Ok Bene così Ed ecco la solita musichetta Mi taglio dei latte No Cazzarola Ok Ok Allora Quarta sezione Da quarta parte Roccia Bene Prendiamo sta carota Ok E che Caspita Voglio saltare un po' meglio Porca miseria Vabbè Prendiamoci il latte No Cazzarola Ok Ecco la roccia Bene Ok Bene così Un bello Zompo Eccola Poteva andare meglio Dagli nigno No Cazzarola Allora Allora Quarta parte Quarta sezione Del quarto stage Ovviamente Dobbiamo andare Ad accoppare Boss fight Cioè il boss Cioè il boss Cioè il boss di sezione Sarà ovviamente La boss Fight Vediamo un po' chi sarà il boss A questo giro A questo giro No cazzarola No cazzarola Tom 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 Che si è un commento Che si è un commento Che si è un commento Quello del navigatore Bastardo Bastardo Bene così Bene così Tagli ad anello Bene così Bene così Ok Anche il quarto stage È andato Ottimo Abbiamo messo 4,18 Ma pazienza Bene così Bene così E allora Eccoci Di ritorno qui Nella schermata Per iniziare Questo Wonder Boy Returns Remix Ragazzi Allora Insomma Anche Stavolta Abbiamo passato Il livello Il quarto stage È stato completato Insomma Con non poche problematiche Come in questo Come capita In questo Tipo di platform Che insomma Anche ai tempi Nel 1986 Dava Dava gli stessi problemi Insomma Comunque È un bel platform Simpatico Divertente E va bene Spero che questo Quarto stage Che Fa ovviamente scopa Con il quarto episodio Di questa piccola saga Di questo Wonder Boy Returns Remix Io spero che vi piaccia Se così fosse Vi lasciarmi un like Un commento Una condivisione Con i vostri amici Per far conoscere Giappogamer Lungo e largo Ovviamente Seguite i miei vari social Se ricordo come sempre Pagina Facebook Twitter Instagram Canale Telegram Vi Invito anche A iscrivervi Al mio canale Se non siete iscritti Iscrivetevi Mi raccomando Attivate la campanella Per inera Aggiornare Come i suoi video Episodi Sul gaming Giapponese A 360 gradi E allora Ok ragazzi Ragazzi Io vi ringrazio D'esserti fin qui E dal vostro Giappogamer Per il momento È tutto Matanè E ai prossimi Episodi Giappogamer Giappogamer